diamante league tamberi vince nel salto in alto e jacobs arriva quarto in reportage sulla diamond league successi e sfide di tamberi e jacobs in una competizione emozionante della diamond league il saltatore in alto italiano gianmarco tamberi ha dimostrato ancora una volta il suo valore ha vinto la gara con un impressionante performance saltando a 2 grego 32 metri che gli è valsa il primo posto ecco la traduzione del testo in italiano anche il suo marchio personale di due 37 metri è rimasto irraggiungibile in questa competizione ma il suo impegno e la sua tecnica erano a un livello elevato la competizione si è svolta nell'ambito della serie diamond league che gode di grande attenzione internazionale e riunisce atleti da tutto il mondo tamberi è stato lodato per il suo incessante impegno e la sua mentalità da competizione in passato l'atleta ha avuto problemi di infortuni che lo hanno rallentato nella sua carriera ma si è ripreso con coraggio ed è ora di nuovo ai massimi livelli nelle sue dichiarazioni dopo la competizione ha lasciato intendere di essere soddisfatto dei suoi progressi e di voler continuare a lavorare sui suoi obiettivi a differenza di tamberi il velocista italiano marcel jacobs ha vissuto una notte di gara meno fortunata jacobs non è riuscito a imporsi nella corsa dei 100 metri piazzandosi quarto con un tempo che è rimasto al di sotto delle sue aspettative sebbene abbia ottenuto il quarto posto era deluso dalla sua prestazione e ha dichiarato di sentirsi meglio preparato di quanto il risultato mostrasse jacobs ha sottolineato che non è semplice competere costantemente ai massimi livelli e ha messo in discussione il suo allenamento per capire cosa non andasse la diamond league non offre solo una piattaforma per prestazioni d'elite ma anche una competizione che mette gli atleti alla prova molti atleti di alto livello devono adattarsi mentalmente e fisicamente alle sfide delle competizioni con le aspettative dei fan e del proprio team che spesso sono elevate tamberi e jacobs entrambe grandi speranze per la squadra italiana dimostrano le diverse sfaccettature dello sport competitivo un altro punto che non deve essere trascurato nella copertura della diamond league è l'atmosfera durante le competizioni le folle di spettatori sono spesso impressionanti e contribuiscono alla motivazione degli atleti tamberi ha parlato del fantastico ambiente e dell'energia dei tifosi che lo incoraggiavano ulteriormente in un momento in cui lo sport professionistico è messo alla prova il sostegno dei tifosi rimane fondamentale per gli atleti per raggiungere prestazioni eccezionali e stabilire record personali in conclusione si può affermare che la competizione nella diamond league è stata un grande successo per tamberi mentre jacobs rimane deluso dalla sua prestazione tuttavia entrambi gli atleti sono importanti ambasciatori del loro sport e rimangono modelli per molti giovani atleti di next stazione nella diamond league sarà emozionante e per entrambi gli atleti un'ulteriore opportunità per dimostrare il proprio valore e forse stabilire nuovi record autore anita fache domenica 25 agosto 2024